salve a tutti sono micweb e con questo tutorial voglio cominciare una piccola serie riguardo il web e siti internet oggi vi farò vedere come si può installare wordpress manualmente prima cosa di tutto andiamo su google cerchiamo il diamo su semplicemente wordpress download andiamo sul sito italiano wordpress.org dove ci potremmo scaricare il pacchetto già tradotto in italiano qui si possono scaricare anche plugins e vari temi andiamo subito versione 4.3.1 l'ultima versione sicura di wordpress adesso non lo scarico perché l'ho già preparato in precedenza eccolo qui l'ho trovato sul sul miei download sono se non sbaglio 23 file con cartelle cosa facciamo lì selezioniamo tutti questi questi file dobbiamo caricarli presso il nostro sito o spazio web che avete a disposizione io uso un programma ftp tipo filesila che è gratuito ho già memorizzato i miei dati d'accesso qui dipende sempre da quale provider voi siate nome servizio o spazio web tipo ruba o altri che ce ne sono ok carichiamo spostiamo i nostri dati sul nostro spazio web nel mio caso la cartella tutorial che ho già preparato ho già caricato tutto il contenuto del pacchetto di installazione su wordpress per fare prima voi ci impiegherete direi 5 6 minuti dipende dalla della trasmissione qui sotto potete vedere l'avanzamento del caricato dati quando avete finito possiamo andare avanti ok io ho già preparato tutto quanto chiudo non chiudo fa il sila lo tengo in sospeso che poi dovremmo andare a modificare un file anzi lo facciamo subito lo modifico in locale apro semplicemente un programma di testo uno qualsiasi che ho qui a disposizione sul mio mac per windows va bene anche notepad o anche word va benissimo un attimo solo qui ok ecco qui ho aperto il scusate questo non c'entra ho aperto il file bp-config-sample.pap scusate il mio inglese non è uno dei migliori cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a inserire i dati del nostro provider in questo caso il nome del database il nome database che di solito viene fornito dal vostro spazio web dove avete il sito molti spazi web danno la possibilità di selezionare il nome proprio nel mio caso devo prendermi il nome del database che è stato generato per questo caso un attimo scusate che non trovo il nome nel mio caso è sempre un numero non me lo ricordo mi copio il nome del database che mi avevo scritto qui prima torniamo sul nostro dp-config.sample.php e mi vado a inserire il nome del mio database in questo caso mysql database qui è anche importante il nome utente del del database anche qui è stato generato automaticamente quindi me lo devo copiare l'unica cosa che nel mio caso potuto generarmi da solo la password qui si intende sempre la password del mysql database non confonderci con ftp password o dati dati di accesso purtroppo è così quando si ha un dominio si hanno spesso volentieri molte password ed è molto semplice confondersi in questo caso sono password del mysql database che in generale ognuno di voi può generare importante anche da stabilire il server il nome del server dove è riuscito il mysql per il server normalmente è localhost nel mio caso è un altro server vado a salvare il config di wordpress prima di andarlo a caricare lo rinomino li cambio il nome praticamente sarebbe vp-config.pp è il nome che ci serve per poter andare avanti con l'installazione lo carico lo metto sullo spazio web adesso siamo già a buon punto possiamo incominciare con l'installazione cosa dovete fare dovete digitare il nome del vostro dominio nel mio caso ho scelto un sottodominio tutorial.micweb.info dovete andare a cercare la cartella di installazione che si trova sotto vp-admin di nuovo slash e dovete andare a pescare il file di installazione che si chiama install.pap allora ricordatevi bene il nome del dominio la sottocartella che è vp-admin e poi il file di installazione che si chiama install.pap qui siamo proprio sull'installazione di wordpress siamo arrivati quasi alla fine è molto semplice titolo del sito nel mio caso è solo tutore nome utente nome utente è molto importante questo nome utente è quello che vi permetterà poi di amministrare in questo caso wordpress block il termine block direi ormai non molto più in uso perchè con wordpress si possono effettuare veramente dei siti molto complessi all'inizio era pensato come block e basta adesso si può usare anche per fare delle pagine professionali wordpress come avete visto da una password standard che è molto difficile qui si può scegliere una password propria come nel mio caso ho scelto una password molto semplice se no non me la ricordo mai ho messo l'indirizzo email non riesco ad andare avanti perchè? perchè devo confermare l'utilizzo di una password molto debole come vedete non è la password consigliata da wordpress questa è una password che ho scelto io e se non confermo qui non posso andare avanti con l'installazione non ci importa solo per piegazione vado avanti con l'installazione un piccolo riappilogo il mio nome utente che mi serve adesso per loggarmi è la password che ho scelto che ho prestabilito io a questo punto vado su login nome utente la password che ho scelto io un attimo che la digito ecco qui login e adesso sono sul back end di wordpress qui potrò sviluppare la mia pagina internet il mio sito personale ovvio quello che avete la prima cosa che si fa di solito è andarsi a selezionare un tema ce ne sono moltissimi gratuiti sono anche a pagamento prendo il primo che capita guardo vedo il sito ciao mondo questo è l'articolo che c'è sempre standard di wordpress e nei prossimi tutorial vi spiegherò come effettuare veramente una pagina internet spero di essere stato di aiuto farò una serie sempre di tutorial riguardo wordpress web siti di internet configurazione dei mail backup serva vedremo insomma se avete delle domande fate pure se avete delle critiche fatela anche pure sono sempre a disposizione per qualunque qualunque di voi abbia bisogno di aiuto scusate per il mio accento vi ricordo vivo all'estero ho un po' dimenticato la lingua italiana quindi mi scuso già per questo va bene grazie e alla prossima ciao